bene salve gente buonasera buon giorno in base all'orario in cui mi seguite ovviamente non farò questo video con la telecamera e si apre la schermata su questa orda di green skin di pelle verde di orchi pronte alla battaglia con le loro asce con le loro spade arrugginite con le loro mazze puntellate dentellate con i loro scudi e soprattutto con le loro grandi zanne per un motivo per un preciso motivo sapete benissimo che circa otto giorni fa quando feci uscire fantastici orchi ragazzi quando feci uscire l'ultimo video di aggiornamenti su total war faro avevo annunciato il fatto che avrei fatto in vi un video senza copione senza diciamo così cose per cui mi sono scritto o tra virgolette trama senza qualcosa che ho fatto in maniera precedente insomma quindi sto andando direttamente proprio tutto ad improvvisazione vi spiegherò direttamente tutto ad improvvisazione per un preciso motivo otto giorni fa per appunto come stavo dicendo l'ultimo video che ho fatto di total war faro in cui ovviamente andavamo a vedere insieme tutte quante gli aggiornamenti e tutte quante le statistiche tutto quello che c'è da sapere diciamo così sul nuovo titolo total war che ovviamente hanno fatto uscire gli sviluppatori quindi abbiamo avuto un boom di aggiornamenti a cui in cui ci hanno spiegato direttamente gli sviluppatori le varie caratteristiche eccetera eccetera veniamo al dunque annunciavo che avrei fatto e avrei registrato un video in cui andavo a rompere le regole tra virgolette ovviamente andare a rompere le regole del canale in che senso ovviamente dovete sapere per chi è nuovo per chi si è iscritto da poco ma ovviamente anche per chi è qua da tanto tempo che questo canale per quanto piccolo sia per quanto ci siano 190 200 iscritti più o meno adesso il numero preciso non me lo ricordo si basava su un fatto su un'unica regola e qual'era quest'unica regola ovviamente era la regola del fatto che le principali battaglie i giochi non solo è total war ma in generale tutti i titoli strategici tutti i titoli real time strategy city building eccetera eccetera tutto quello che che ne comportava e riguardava questo canale era dedito al fatto che era qualcosa di storico e quindi non qualcosa di fantascientifico né tantomeno qualcosa di fantasy come in questo caso per l'appunto quello che abbiamo davanti che è total war warhammer 3 in questo caso perché dico che voglio fare perché sto registrando questo video in cui dico che voglio rompere le regole per l'appunto del canale adesso bevo un sorso d'acqua e nel frattempo faccio andare avanti la partita il frattempo perdonatevi perché non ho avuto il tempo prima di bere il sorso d'acqua tra l'altro bisogna ricordare una cosa che se bevete bisogna ricordare una cosa se bevete acqua frizzante spesso vi viene più sete di quanto non ne bevete con l'acqua naturale comunque sia perché ha voluto ho deciso di fare questo video che andava un po segnare letteralmente la storia del canale di quando era partito nel 2000 e se non sbaglio 16 2017 perché praticamente nel frattempo comando a rallenti lizard man contro green skin come avete capito assedio perché praticamente a forza di giocarci come sapevate all'inizio ero contrario al fatto di non solo portare sul canale video ma anche in generale giocare con titoli fantasy e all'inizio è vero ero contrario ma che cosa ho deciso ho deciso di provare regola che vale anche in generale per per la vita insomma di tutti i giorni tentare non nuoce ragazzi magari scoprite e capite che vi potete appassionare ad una nuova ad un nuovo hobby ad una nuova passione ad un nuovo mondo se non in questo caso ad un nuovo universo letterale ho iniziato un po alla volta sia per consiglio di qualche mio amico sia un po perché ero incuriosito io ad iniziare per appunto di intraprendere piccole battaglie piccole campagne con il primissimo total war hammer il primo capitolo inizialmente devo devo ammettere la verità devo dire la verità non non ero così entusiasta forse perché ero entrato in un universo in cui non non riuscivo a capirci più di tanto perché mi sembrava di essere sballottato come se fosse in mezzo al mare tra le varie razze tra anzi scusatemi tra le tantissime razze tra le tantissime saghe leggende storie che andavano a per così dire dettagliare andavano a specificare la storia di queste di queste fazioni di queste razze inizialmente effettivamente non mi riusci a trovare più di tanto a forza di giocarci però dai una volta dai due volte dai venti volte dai 50 volte piano piano un po per consiglio degli amici un po perché ho visto che poco alla volta anche io mi per così dire inabissavo in un universo in un mondo che mi iniziava veramente a piacere dal lato dal punto di vista tattico strategico iniziai a farmi piacere il fantasy iniziai a farmi piacere warhammer il mondo e l'universo di warhammer fantasy e di warhammer pensate un po anche 40.000 e di conseguenza ovviamente iniziai non solo a giocare tantissimo a total warhammer 1 quando sci poi total warhammer 2 ma bensì tanto più adesso da ormai un anno a questa parte che la trilogia è stata completata per appunto di total war warhammer 3 con l'ultimo e definitivo capitolo che andava a chiudere per appunto la saga e ovviamente questa è stata una cosa che è partita non in un giorno e non in un mese vi lascio questo replay di sottofondo comunque come avete capito le fazioni principali sono i lizardman che attaccano e cercano di conquistare la città per appunto che che è occupata momentaneamente dai pelle verde quindi dagli orchi dai goblin e non è stata una cosa che scaturita effettivamente da un giorno all'altro se devo se devo dire la verità è stata una cosa che è stata complessa e è stata parecchio combattuta perché ero sempre indeciso se continuare a portare avanti oppure no varie campagne varie battaglie anche magari in multiplayer con altre persone non solo singolarmente anche se principalmente io diciamo così gioco in single player bensì tanto più per tanto tempo sono stato combattuto oppure no su twitch l'avevo già fatto ma sul canale principale sono stato combattuto oppure no se portare per l'appunto i vari replay le varie battaglie le varie campagne per l'appunto con tutto quello che ne riguardava sia non solo i total war ma anche real time strategy city building eccetera eccetera dell'universo di warhammer fantasy ma anche dell'universo di warhammer 40.000 poi adesso vi vengo a spiegare un po alla volta qui hanno colpito purtroppo un lizard uno scinco che sta che sta precipitando perché questo perché come dicevo non bisogna mai per così dire precludersi chiudersi le porte a qualcosa di nuovo a qualcosa di quello inizio è vero possiamo rischiare di diffidare però scusatemi vado un attimo ad abbassare l'audio però questo non vuol dire per appunto che dobbiamo precluderci nuove possibilità dobbiamo chiudere i battenti le porte a nuovi hobby nuove cose nuovi universi nuovi mondi per cui magari scopriamo che poi alla fine ci piacciono e non solo ci piacciono ci appassionano talmente tanto da voler andare a scoprire a leggere a cercare di capire ogni storia di ogni razza di ogni fazione quindi perdonatemi ho avuto un piccolo bug al microfono quindi il mio consiglio questo cercate ovviamente sempre di non precludere le possibilità che vi portino per così dire a nuove possibilità a nuovi hobby nuove passioni che vi aprono nuove porte io di nuovo continuando perdonatemi del piccolo bug che ho avuto il microfono di nuovo continuando ho avuto per così dire mi esplosa questa passione perché un po' alla volta una battaglia alla volta ho riscoperto non solo il mondo di warhammer fantasy ma anche il mondo di warhammer in generale quindi della games workshop quindi delle miniature in generale che propone ovviamente tutto l'universo enorme della games workshop e questo mi ha permesso assolutamente di conoscere nuovi giocatori conoscere nuovi ambienti conoscere nuovi stili di gioco conoscere davvero tante altre cose tante altre persone tanti altri tanti altri posti ambienti comunque che mi permettevano di andare ovviamente ad esplorare e ad ampliare soprattutto ampliare la mia conoscenza dell'universo sia di warhammer fantasy ma da qualche da qualche mese a questa parte anche per l'appunto quello dell'universo fantascientifico di warhammer 40.000 quello poi ovviamente è un discorso a parte di lì diciamo principalmente che mi sono appassionato molto dell'universo delle miniature e del gioco stesso che ne comporta e quindi ovviamente personalmente in modo privato sono andato poi a rileggermi a recuperarmi un po' alla volta e lo sto ancora facendo perché è qualcosa di veramente atomico tutto l'universo e tutte le storie che stanno dietro ad ogni fazione ad ogni razza nel mondo di warhammer 40.000 ma ricordiamo anche di quello fantasy di conseguenza niente questo è quanto cosa principalmente ho deciso per appunto di fare questo video di fare questa registrazione ovviamente con il replay in sottofondo proprio perché ho ho deciso una volta per tutte perdonatemi se lo ripeto molte volte mi sono impuntato per così dire ho preso la decisione di rompere le regole di questo vecchio canale ormai che vedo che ultimamente qualche piccolo numerino in più l'ha fatto ma bene o male comunque è sempre stato statico sempre stato quasi nella stessa fase ovviamente però io lo dico sia per chi è arrivato da poco e chi anche era qua da tanto tempo che mi guardava e mi vedeva da tanto tempo e quindi questo questo è quanto ho per appunto sì deciso di rompere queste vecchie forse molto ammuffite e impolverate regole e buttarmi letteralmente non solo in modo privato e in modo personale per quanto riguarda come dicevo già da tanto tempo con il mondo di Total War Warhammer ma anche di portarlo qui sul canale perché no sia campagne che battaglie questo è quanto questo è quello che vi dirò la verità in questi anni più o meno iniziato dal 2021 dalla metà del 2021 circa in questi due anetti e mezzo circa ho imparato che effettivamente sì sia Warhammer Fantasy non contando Age of Sigmar sia Warhammer 40.000 sono due universi a parte e tutti e due questi universi sono letteralmente impregnati di tantissime e veramente tantissime leggende, storie che definiscono a sé ogni razza ed ogni fazione e questa è una cosa che veramente è questo quello che mi è piaciuto che per ogni fazione in sé per sé ci sia tantissima lore tantissimo su cui esplorare tantissime storie tantissima per così dire tantissimo hobby e passione che ci hanno messo anche chi le ha fatte e chi le ha scritte queste storie ma anche chi ha inventato queste razze chi ha inventato queste fazioni eccetera eccetera io da quando ho iniziato a giocare come detto più o meno della metà del 2021 ho scoperto che ci sono non dico quattro forse un po' di più adesso non voglio contarle però ci sono più o meno una decina di principali fazioni in tutto il mondo di Warhammer primo tra tutti per l'appunto è questo che stiamo guardando adesso il Lizardman che è una delle razze se non la razza più antica in assoluto perché è la razza di lucertole umanoidi che è stata per l'appunto creata dagli antichi che sono dei antichissimi che sono comparsi nel mondo di Warhammer millenni se non milioni di anni or sono e per l'appunto questi dei per la primissima volta hanno creato questa razza di lucertole umanoidi comunemente chiamate da tra virgolette gli ignoranti o comunque dalla fazione della razza degli uomini uomini lucertole per appunto Lizardman ci fu un grosso cataclisma nel mondo di Warhammer fantasy dei cancelli spaziali che permettevano di teletrasportare gli antichi gli antichi slan sacerdoti e tutte le altre legioni di uomini lucertole da un punto all'altro del mondo collassarono questi cancelli giganteschi colossali per appunto collassarono quindi vennero distrutti da una grandissima invasione di quello che fu per la prima volta il caos da lì per appunto interagirono nella prima grande guerra col caos questo poi vi spiego quello per cui ho tra virgolette imparato io in questi anni nella prima grande guerra col caos intervennero altre razze che furono create dagli antichi dopo ovviamente gli zernal quindi intervennero razze che compassero come gli altri elfi gli elfi scuri i drucchi scusatemi non c'erano ancora gli uomini e i nani per l'appunto sventato questo apocalittico attacco del caos gli antichi si ritirarono gli antichi ormai decimati rimasti rimasti in pochissimi quasi a rischio estinzione decisero per appunto di ritirarsi definitivamente completamente proprio scomparire del tutto e di conseguenza lasciare il mondo di Warhammer fantasy a sé per sé per così dire ovviamente nel corso dei millenni che si susseguirono le prime razze come gli uomini lucertola le razze degli esseri umani quindi degli uomini le razze dei nani le razze degli alti elfi altre razze che comparvero come per appunto le razze dei pelle verde il catai che però si spinge più nell'est ovviamente gli ogri e comunque quanti altri si svilupparono andarono avanti costruirono città fondarono imperi colonizzarono continenti e di conseguenza insomma tutto questo portò un po' alla volta allo scontro di questi imperi alle varie colonizzazioni eccetera eccetera da qui ovviamente bisogna anche ricordare la grossa corruzione degli dei del caos ossia Korn che è il dio della guerra il dio del sangue Nargol che è il dio delle pestilenze e anche della vita Slanesh che è il dio degli eccessi e Zinsh che è il dio della preveggenza o come si suol dire il dio per così dire che permette di prevedere il futuro sì alla fine sì questo è quanto l'intero mondo di Warhammer quindi non soltanto questo orco che è planato dal cielo è stato bellissimo l'intero mondo di Warhammer quindi non soltanto gli uomini non soltanto gli elfi ma tantissime altre fazioni furono corrotte dal caos tanto che per l'appunto alcune fazioni come gli altri elfi vennero corrotti così tanto da Slanesh il dio degli eccessi che ci fu una secessione millenaria da cui appunto nacquero i druchi ossia gli elfi oscuri cioè gli elfi per l'appunto corrotti dal dio del caos Slanesh altri invece come per esempio i nani vennero corrotti dal caos e divennero nani del caos principalmente di Korn ci furono delle proprie vere fazioni o bande di guerra principalmente nel nord del mondo quindi della Norsca bande da guerra di uomini che vennero sottomesse letteralmente da fazioni che provenivano dai reami del caos e insomma tutto questo un po' alla volta portò alla definitiva invasione del caos così chiamata anche Apocalisse chiamata Apocalisse perché ovviamente dicimò e arrivò a invadere definitivamente a distruggere definitivamente tutto il mondo di Warhammer e tutte le fazioni e razze inerenti intendo dire ovviamente adesso vi sto facendo il succo del succo del succo del succo del discorso anche perché non vi sto spiegando i vari anni però vi ho un po' portato per così dire a tutto quello che ne deriva poi della Age of Sigmar cioè l'era di Sigmar questo perché ovviamente questo perché una volta che il caos devastò tutto quanto il mondo tutte le fazioni tutte le razze vennero distrutte e da qui per l'appunto parte poi l'era di Sigmar che sto tutto rapprofondendo questo è un mega riassunto ma veramente mega di tutto quello che ne è stato della storia dei millenni che si sono susseguiti di Warhammer Fantasy World però oh Bolas qua cadono Bolas tra l'altro fuoco amico però sì insomma questo è quanto Age of Sigmar la devo ancora approfondire come storia adesso sulla lore di Warhammer Games Workshop principale dovrà uscire da qui a brevissimo una nuova storia che si chiama The Old World qui ovviamente si parla principalmente di giochi di miniature ok e non di videogiochi quali questo dei Total War Warhammer oppure realtà strategi vari si parla soltanto delle miniature e da qui a breve per l'appunto la Games Workshop Warhammer farà uscire la la nuova sezione storica di gioco anche di miniature e di mondi vari chiamate per appunto The Old World che si basano sugli eventi antecedenti a se vogliamo così dire Total War Warhammer 1 e diciamo che io sono entrato in un momento come questo che è entrato per così dire sto approfondendo il mondo di Warhammer Total War scusatemi di Warhammer Games Workshop Fantasy e anche 40.000 in un momento che è abbastanza preso di mira da parecchi parecchi cambiamenti e turbulenze varie tra cui da qui a pochi mesi ho iniziato da circa marzo di quest'anno ho iniziato ad approfondire tutta quanta la storia che ne riguarda di Warhammer 40.000 questo perché ovviamente per appunto mi sono appassionato in modo separato alle miniature poi anche ai giochi RTS e videogiochi RTS ma in primis alle miniature ovviamente entrando anche in un ambiente di persone che ne giocava eccetera eccetera ho deciso per appunto di approfondire ovviamente tutta quanta la storia la cronologia dei 40 millenni che sono veramente un fottio di roccia è veramente tantissima roba veramente tanta tanta roba perché sono 40 anzi scusatemi 42 millenni di storia e al momento sono al 32esimo e sto ancora per l'appunto andando avanti a leggere tutta la storia tutta la cronologia quantomeno i fatti principali e poi anche tutti gli altri sottofatti le altre sottoleggende storie di personaggi primari secondari dei vari capitoli delle varie fazioni delle varie razze è veramente qualcosa che inizi non finisce più un po' come la tecnologia inizi però sai che si continuerà ad aggiornare a portare nuove storie a portare a nuove fazioni magari a portare nuove missioni a nuove nuove storie di mondi universi e quant'altro e quindi sicuramente qualcosa che inizi ma non finisci più questo per quanto riguarda principalmente il mondo di Warhammer 40.000 per quanto riguarda questo per l'appunto devo sono arrivato insomma alla fine dei tempi devo approfondire l'era di Sigmar e finché posso ottenere per così dire il colpo cerco di approfondire queste sezioni qua perché per appunto da qui a breve dovrà uscire anche la Old World quindi sarà tutto un altro capitolo prequel che si baserà principalmente sul vecchio mondo ecco quello che volevo spiegarvi però principalmente il fatto che comunque per chi diciamo così inizia un attimo a scoprire la punta dell'iceberg anche soltanto la punta dell'iceberg della lore di Warhammer Fantasy io intendo dire di Warhammer Fantasy capisci che in realtà il primo capitolo che è Warhammer scusatemi Total War Warhammer 1 il primo capitolo è in realtà la fine cronologicamente parlando di tutto il mondo di Warhammer Fantasy proprio perché Archon il il condottiero prescelto dal quattro dei del caos che porta l'apocalisse su tutto il mondo di Warhammer quindi questo vuol dire che poi portando l'apocalisse spazza via e rade al suolo tutte quante le altre razze del mondo di Warhammer Fantasy World facendo per così dire invadendo con il caos tutto il mondo e quindi portando veramente la fine di tutto il mondo di Warhammer Fantasy World è in realtà la fine vi do un piccolo concept ma proprio in a nutshell in una pillola ok in una nocciolina vi do un piccolo concept della storia cronologica di Warhammer Total War però in questo caso tecnicamente a rigor di logica il capitolo 2 se non sbaglio poi correggetemi nei commenti se sbaglio magari dico una cafonata magari dico una cafonata e chiedo scusa però se non sbaglio il secondo capitolo di Warhammer di Total War Warhammer quindi quello con il vortice e il vortex dovrebbe essere bensì il primo capitolo cronologicamente parlando cronologicamente parlando di della storia di Warhammer Fantasy World questo perché perché dopo la primissima grande ondata del caos ok i quattro no scusatemi i sei se non sbaglio principali sacerdoti degli alti elfi imprigionano tutti i venti della magia con tutti quanti con tutte quante le forze del caos dentro questo grandissimo vortice per appunto all'interno dell'isola di Ultuan che è l'isola il continente isola degli alti elfi creando questo vortice al contempo le forze del caos per così dire vengono racchiuse e quindi crea un tappo per la dimensione del caos e di conseguenza le forze del caos vengono respinte e non riescono più a rientrare per l'appunto dentro al mondo di Warhammer Fantasy World da qui da Total War Warhammer 2 con il grande vortice si arriva quindi con la prima per così dire sconfitta del caos si arriva in realtà a Total War Warhammer 3 il terzo capitolo e perché? perché con la con Ursun che ruggisce con il ruggito di Ursun il mondo trema e di conseguenza per un'ennesima volta vengono per così dire il mondo di Warhammer Fantasy World trema e questo grosso terremoto in cui poi dopo ovviamente ci sono dei finali personalizzati per il videogioco di Total War Warhammer 3 come campagna ma tecnicamente se non sbaglio anche qui se non tiro una cafonata ma correggetemi se sbaglio nella cronologia di Warhammer Fantasy World poi Ursun viene ucciso cioè Ursun a prescindere viene ucciso scusatemi viene ferito però poi viene definitivamente anche ucciso da chi non mi ricordo perdonatemi devo andare a rivederlo nella storia il problema è che questa cosa questo evento scatena per così dire degli eventi colossali apocalittici perché vengono creati vengono aperti vengono aperti a delle fenditure ma andiamo magari a sì ok vengono aperte a delle fenditure eh dimensionali nel mondo di di Warhammer per appunto fantasy che permette agli dei del più che altro alle legioni ecco diciamo così degli dei del caos di oltrepassare queste fenditure e iniziare a fare il macello a devastare per appunto il vecchio mondo ma tutti i continenti in generale di di tutte le razze di tutte le fazioni di Warhammer e quindi Korn quindi Slanesh quindi Nargol quindi Zinch iniziano a penetrare a causa di questi a causa di queste fenditure dimensionali nei vari punti collocati separatamente di Warhammer e da qui per l'appunto dal capitolo di Total War Warhammer 3 si ripassa a Total War Warhammer 1 perché cronologicamente parlando di nuovo viene scelto dai 4 Dei del Caos un campione unico che è Arkhaun il prescelto per portare definitivamente con tutte e 4 le legioni degli Dei del Caos l'Apocalisse quindi la fine definitiva del mondo di Warhammer Fantasy da qui ovviamente poi nasce si va avanti con la cronologia con la Age of Sigmar per appunto quindi con l'era di Sigmar e che come detto non sto a raccontare perché devo approfondire ancora ovviamente e di conseguenza non ve la racconto qui dopo l'era di Sigmar che se non sbaglio era partita nel 2015 dalla Games Workshop Warhammer ovviamente si parla sempre del mondo di miniature si arriva al giorno d'oggi per appunto che da qui a breve da qui a una settimana se non sbaglio dovrebbe uscire il capitolo prequel dell'Old World quindi fondamentalmente la prima grande invasione del caos dove poi dopo per appunto gli alti e il Fii riescono a imprigionare le forze del caos per appunto nel grandissimo vortice quindi è proprio un prequel per il momento io mi faccio bastare tutta la storia di ci ho messo 34 minuti per raccontarvela e poi come detto è tutto in una nocciolina in una capsula perché è veramente questa qui è la cronologia della storia principale ma ragazzi si parla di di anni di anni di 20 30 40 anni 40 anni che la Games Workshop porta avanti storie di ogni fazione di ogni personaggio sia del fantasy che del fantasy scientifico 40.000 attenzione quindi veramente una cosa infinita molto figa molto bella e anche per questo per cui mi sono molto appassionato per cui esplosa questa passione però veramente una cosa che inizi e non finisci più io finisco di dire le ultime cose qua con la fazione con scusatemi con la città come sfondo quindi questo è quanto questo è quello per cui avevo da dirvi per il momento come detto mi faccio bastare sia la lore di Warhammer Fantasy World vorrò anzi in futuro sicuramente mi leggerò mi studierò anche l'Age of Sigmar e poi mi dovrò studiare anche la Old World e sto andando avanti anche con Warhammer 40.000 ho fatto però questo video per l'appunto per spiegarvi tutto questo cioè io decido definitivamente di rompere le regole del canale perché certo sicuramente porterò anche i vecchi titoli RTS e anche Total War storici storici per l'appunto però voglio e ho deciso siccome mi è esplosi in questa passione da due anni e mezzo più o meno a questa parte ma non non l'avevo ancora detto e non l'avevo ancora portato sul canale per appunto di rompere le regole quindi di portarlo definitivamente qui sul canale che sia di Total War Warhammer 3 che sia di Dawn of War che è un real time strategy sviluppato per appunto della Games Workshop Warhammer della Relic insieme ad altri casi ovviamente che siano battaglie che siano campagne che siano replay e sicuramente li porterò anche qui d'ora in avanti sul canale detto questo spero che chi è appassionato come me del fantasy del del fantascientifico in generale del di tutto il mondo di Warhammer ma di qualsiasi altro tipo di fantasy e di fantascienza oltre che ovviamente dei titoli storici come me sia sia gradito gradisca questa cosa detto questo ovviamente se siete nuovi guardate questo video iscrivetevi al canale perché no così che rimanete aggiornati su tutto quello che porto e dico ovviamente come questo come questo video registrazione che segna una svolta nella storia di questo piccolo canale e lasciate un commento ditemi che cosa ne pensate qua sotto ci si può ci si vede magari su discord su qualche server online e noi ragazzi signori gente di qualsiasi età che mi sta guardando a questo punto ci vediamo spero presto in un prossimo video che sia storico che sia di aggiornamento magari di title war pharaoh che sia un rts o che sia di warhammer fantasy world o di down of war 40.000 per appunto qui sul canale alla prossima